Siamo al Teatro Umberto, in mia compagnia c'è Vincenzo De Fazio che collabora con Città delle Idee e si occupa di crowdfunding, al quale chiederemo per l'appunto come ha conosciuto Città delle Idee, di cosa si tratta appunto il crowdfunding e la tua esperienza personale di crowdfunding. Io vengo a conoscenza di Città delle Idee nella loro prima uscita alla Mezzia, loro facevano proprio un convegno sul crowdfunding, crowdfunding che è una raccolta fondi di folla, crowd è folla, funding è finanziamento, cioè è un finanziamento di folla, è come una colletta globale, se consideriamo i siti che ci sono, i siti online. Loro discutevano di questo e io conosco Andrea e oltre al crowdfunding che fu la loro prima uscita, ma ha fascinato molto il progetto che avevano, è ambizioso, sono ambiziosi i progetti che abbiamo di crowdfunding. Attualmente io utilizzo la piattaforma Kickstarter perché in Italia un po' il crowdfunding è stato ingessato, gli americani sono un po' più liberi, quindi abbiamo più possibilità. Diciamo che Città delle Idee ha sposato questo progetto come un progetto loro e io mi sento appartenere a loro. Perché se non vado errato, correggimi se sbaglio, il crowdfunding si occupa prevalentemente del... Io sono in, che ne so, visito una pagina Facebook, vedo un oggetto, qualcuno che chiede appunto di essere finanziato per costruire o per creare insomma un oggetto e si può contribuire anche con pochissimi centesimi di euro, con un euro. Sì, un euro, cinque euro, questa è la somma minima. Però il crowdfunding non è solo un finanziamento, è l'acquisto del prodotto. Cioè lo vedi, ti verrà consegnato poi con tre, quattro mesi di... È come un preordine, consente all'azienda di fare la start-up, di entrare in produzione e di poter produrre. Perché altrimenti dovrebbe rivolgersi alla banca e pagare degli interessi oppure avere degli investitori. In genere sui siti si trovano anche gli investitori. Noi abbiamo avuto una buona offerta, però poi il mio progetto diciamo lo stanno seguendo gli americani. Io non sono poi proprietario proprio del brevetto, sì, ma non del progetto. E loro l'hanno rifiutato, hanno rifiutato 250.000 dollari come se parlassero di speciale, però io... Ma il tuo progetto lo possiamo divulgare oppure è top secret, eccetera, eccetera. Si chiama Plug, è scritto P-L-U-G-G. Sarebbe una valigia che con il rotolamento della ruota, mentre uno trascina il trolley, si carica una batteria interna, all'interno proprio tutto integrato nella ruota e quando ti serve il cellulare scarico ti inserisci una presa USB che è collocata vicino alla ruota e ti carichi il cellulare. Ovviamente mentre noi parliamo in sottofondo vanno le immagini di quello che è questo Plug, come si chiama? Plug. Plug, esatto, perché è uno strumento effettivamente utilissimo. Se uno ci pensa bene, quando si trova proprio in aeroporto e deve appunto caricare il cellulare non sempre trova una presa di corrente, è la dinamica proprio, tipo il meccanismo della Dynamo, quindi... È una Dynamo, diciamo Dynamo, è un microgeneratore. Non è, come idea non è nuova, qualcuno ci ha anche pensato, però poi nella realizzazione alla complessità non ci siamo riusciti. Quindi ti registri il brevetto perché ci sei riuscito, sei l'ultimo ad arrivare a quella soluzione. Quindi praticamente tu sei riuscito con l'applicazione pratica di un'idea che tu avevi in testa e con la collaborazione con Andrea Falvo, la città delle idee, di riuscire a mettere in cantiere qualcosa che altrimenti non saresti riuscito a fare. Sì, sì, cioè la tecnica è mia, ma il progetto è loro, perché se loro in questo momento non finanziano il progetto si rischia di uscire fuori dal circuito Geekstarter e di non fare la start-up. Cioè se in questo momento noi siamo proprietari di questo progetto, lo siamo nella misura in cui noi investiamo in questo progetto, altrimenti gli americani se lo prendono, perché io ho dato delega loro a farlo. Quindi più investiamo, più siamo proprietari, meno si investe, meno lo siamo. Molto chiaro. Io a questo punto ringrazio Vincenzo De Fazio per averci spiegato personalmente che cos'è il crowdfunding. Vorrei però lasciare un indirizzo, una pagina Facebook, perché se qualcuno volesse scriverti per condividere la sua esperienza oppure che tu condividessi con loro la tua esperienza, magari arricchisce in tutti i sensi. Come possono contattarti? Sì, o sul mio profilo Facebook Vincenzo De Fazio, oppure su www.plug.com. Perfetto, troverete comunque alla fine di questo video tutte le informazioni. Io ringrazio nuovamente Vincenzo De Fazio, la città delle idee, e soprattutto vi invito a digitare appunto crowdfunding e Vincenzo De Fazio e vedere questo plug che è una cosa veramente spettacolare. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.